hai finito di mettere le le persone nella lista si sto terminando di mettere le persone nel database e noi speriamo di inviare la seconda lista nel giro di pochi giorni e la seconda lista dovrebbe essere di un numero superiore a quella della prima lista quindi più di 100 persone sicuramente vedremo comunque quante persone provengono da da oms allora nel primo gruppo ci sono una grande una larga maggioranza che vengono da oms ama e idrib il secondo gruppo invece più è più e meno omogeneo e diciamo ci sono persone che vengono da diverse parti della siria dall'est della siria azacca piuttosto che del razzir oppure persone che vengono dalla stessa leppe da damasco quindi diciamo che le le persone sono divise più sono più suddivise all'interno del territorio siriano quanti bambini ci sono nel primo gruppo ci sono 41 bambini su 93 persone che arriveranno in italia quindi diciamo un buon 40 per cento anche 45 direi e se sono tutti molto piccoli non ci sono ragazzi non ci sono adolescenti prevalentemente sono sono bambini